Stefano Revisore Che tipo di domande ti stai facendo in questo momento della tua vita? Con quale domanda sei entrato qui dentro questa mattina? Forse può essere una domanda esplicita, qualcosa che hai verbalizzato o che viva nella tua mente. O forse è una domanda più silente, più implicita, non l'hai detta, ma in realtà sta guidando molte scelte della tua vita. Dietro ogni domanda c'è un presupposto, c'è qualcosa a cui ci aggrappiamo, che riteniamo vero, certo, sicuro. E le conclusioni a cui giungiamo, cioè le risposte che ci daremo, dipenderanno moltissimo, interamente, dalle domande che ci facciamo e dai presupposti che sono dietro queste domande. Ma perché tutto questo? Perché nel capitolo 3 del Vangelo di Marco, che vedremo oggi, osserveremo un'applicazione pratica attraverso la vita dei personaggi che incontreremo, di come presupposti diversi conducono a conclusioni diverse. È un capitolo per certi aspetti anche piuttosto forte, in qualche modo ci scuoterà un pochino, perché all'interno di questo capitolo Gesù dà due importanti avvertimenti al cuore umano per il nostro bene, ma anche un grande incoraggiamento. Nella scena principale, Marco descrive l'attacco feroce che le autorità religiose del tempo muovono contro Gesù e come Gesù reagisca a questo attacco. In una scena apparentemente secondaria, però in contrasto con la prima, Marco fa emergere i nomi e i volti di quelle persone che avevano deciso di seguire Gesù. E il capitolo inizia con Gesù che entra in una sinagoga. Leggiamole insieme. «Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Là stava un uomo che aveva la mano paralizzata e lo osservavano per vedere se l'avrebbe guarito in giorno di sabato per poterlo accusare. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata «Alzati là in mezzo». Poi domandò loro «È permesso in un giorno di sabato fare del bene o del male? Salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. Allora Gesù, guardatili tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo «Stendi la mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. I farisei usciti tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui per farlo morire. Ci sono due elementi per capire questo passo che ci aiutano ad entrare all'interno del suo significato. Uno i farisei, l'altro il sabato. Chi erano i farisei? I farisei erano un gruppo religioso del tempo, prominente. Sedevano infatti all'interno del sinedrio, per certi versi settario, perché erano ossessivi osservanti della legge che Dio aveva dato a Mosè, ma non solo di quella legge, anche di una legge che loro avevano creato per poterla osservare. Cos'era il sabato? Allora, come oggi, il sabato è per il popolo di Dio, per Israele, il giorno in cui Dio aveva comandato di riposare dalle proprie fatiche, dal proprio lavoro e di entrare in comunione con lui, godendo anche della benedizione che Dio gli aveva dato nella sua vita. I farisei avevano però trasformato il giorno di sabato da un giorno di riposo a un giorno di eccessive proibizioni, a tal punto che se ci si faceva male e ci si tagliava il dito, si poteva fermare il flusso del sangue, ma non si poteva applicare su di esso alcun farmaco, a meno che non fosse stato preparato il giorno prima, cioè di venerdì. E nell'interpretazione ancora più stretta di alcuni di loro, addirittura, non era neanche possibile pregare per la guarigione il giorno di sabato. Una violazione involontaria del sabato sarebbe stata trattata con una certa clemenza, ma una violazione volontaria del sabato avrebbe potuto avere anche le più dannose conseguenze, cioè quelle mortali. I farisei, quindi, chiaramente, cercavano un motivo per mettere Gesù all'interno di una trappola. Cercavano un motivo per accusarlo, perché se avessero potuto dimostrare che lui disubbidiva il giorno del sabato, allora avrebbero potuto provare che non era quello che gli altri o quello che lui diceva di essere. Ma Gesù capisce le loro intenzioni e risponde così. Rileggiamo questo pezzo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata alzati là nel mezzo. Poi domandò loro è permesso in un giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una persona o ucciderla? Ma quelli tacevano. Gesù chiede all'uomo di alzarsi in mezzo a tutti. In questo modo tutti potevano osservare la condizione di quell'uomo, cioè il fatto che avesse questa mano secca in alcune traduzioni ha scritto c'è una mano paralizzata, probabilmente anche più piccola dell'altra. Ma lo fa alzare nel mezzo così che anche perché i farisei potessero avere e le persone attorno a loro nella sinagoga potessero vedere qual era l'oggetto dell'accusa che stavano per muovere contro Gesù. Immaginiamo quindi il silenzio che scende all'interno della sinagoga quando tutti sono seduti e Gesù fa alzare quell'uomo che forse un po' per vergogna nasconde quella mano, probabilmente, immaginiamo, dietro di sé. E in quel silenzio Gesù fa questa domanda che in altre parole significava questo. È proprio vero che ci può essere un giorno in cui è sbagliato fare del bene. A Dio veramente comandato nel giorno di sabato di non fare del bene. Davanti all'evidenza di quella domanda così formulata tutti tacciono, nessuno risponde. I farisei erano entrati nella sinagoga con due errati presupposti. uno riguarda la legge di Dio, l'altro riguardo a Gesù. Riguarda la legge di Dio erano convinti che la loro personalissima interpretazione della legge fosse sicura e inderogabile. Riguardo Gesù erano convinti che fosse un impostore. Anziché domandarsi se costui, se quest'uomo può fare e fa i miracoli che nessun altro uomo fa, sarà forse qualcuno mandato da Dio? Sarà forse chi dice di essere? Anziché mettere in discussione i propri presupposti e le conclusioni con cui erano arrivati lì all'interno della sinagoga si tengono stretti i loro io penso, io credo e rimangono prigionieri del loro stesso silenzio. il che è assurdo perché le loro stesse azioni negavano queste evidenze il fatto stesso infatti che fossero arrivati nella sinagoga sperando di vedere Gesù guarire il giorno di sabato significava che credevano che Gesù poteva guarire e voleva guarire cioè che avesse la potenza di guarire e la volontà il desiderio di farlo. Il loro silenzio quindi era un silenzio pesante perché con le loro stesse azioni confessavano quello che in realtà volevano negare. Ed ecco come reagisce Gesù e rileggiamo questo piccolo passo Allora Gesù guardatili tutti intorno con indignazione rattristato per la durezza del loro cuore disse all'uomo stendi la mano egli la stese e la sua mano tornò sana. La tristezza di Gesù in questi versi è tangibile la rabbia l'indignazione che ha non è come la nostra rabbia quando qualcuno ci ferisce o ci offende è la rabbia di chi si rende conto e consapevole di quali conseguenze può avere il peccato all'interno di un cuore umano a tal punto da renderlo resistente ad ogni forma di evidenza di realtà e di bontà i farisei avevano guardato fino a quel momento quell'uomo dalla mano paralizzata solo come un oggetto d'accusa da muovere contro Gesù pensiamoci erano le autorità spirituali del tempo i capi religiosi del momento eppure nei loro cuori non c'è traccia di alcuna compassione ritenevano di avere la verità riguardo la legge di Dio ma in loro non c'era amore la legge di Dio che pensavano di dover difendere contro quell'impostore era in realtà quella che stavano dimostrando di non aver capito quando io e te quando noi sappiamo quando conosciamo ma non amiamo ci stiamo trasformando molto più in bellissimi libri di teologia ma sempre meno a vite trasformate dalla grazia di Cristo Gesù invece guarda quell'uomo per quello che era e per il bisogno che aveva lo fa alzare in mezzo a tutti non per umiliarlo ma per ristabilire la sua dignità ridargli la sua dignità davanti a tutti e anche per dare un'occasione ai farisei che erano lì di ripensare ai presupposti con cui erano entrati alle conclusioni che avevano formulato Gesù in giorno di sabato sta in realtà offrendo due guarigioni una a quell'uomo l'altra ai suoi accusatori con i suoi occhi cerca quindi qualcuno che sia disposto a dire certo che è giusto fare del bene in giorno di sabato ma tutti tacciono e Gesù si rende conto che in quel giorno avrebbe guarito un uomo che per fede all'invito di Gesù è disposto ad alzare quella mano che neanche poteva muovere ma che non avrebbe potuto guarire quei cuori che non erano disposti a cambiare idea riguardo a lui che paradosso la durezza di quella mano fu guarita la durezza di quei cuori rimase tale e questo ci porta al nostro primo punto oggi che è anche un po' il primo avvertimento che Gesù fa al cuore dell'essere umano è questo l'incredulità e l'ostinazione hanno il potere di indurire il nostro cuore l'incredulità e l'ostinazione hanno il potere di indurire il nostro cuore non rimangono cioè senza conseguenze perché il nostro cuore è qualcosa di troppo tenero di troppo prezioso per rimanere indifferente al freddo dell'incredulità e della nostra ostinazione che lo gelano perciò la domanda per noi è a cosa stiamo permettendo di indurire il nostro cuore una ferita forse l'incredulità ci stiamo ostinando su qualche cosa una forma di orgoglio una mancanza di perdono a cosa stiamo permettendo di indurire il nostro cuore quali convinzioni quali cose con cui sei entrato qui dentro e di cui sei convinto Gesù oggi con questa storia ti sta invitando a ripensare quali preconcetti concetti riguardo a Gesù forse è il tempo di lasciare da parte e mentre lasciamo questa scena Marco ci porta dentro un'altra scena quella in cui Gesù chiede ai suoi discepoli di andare verso il mare e si ripara un po' verso un luogo un pochino più solitario ma le folle data la sua fama vengono e accorrono a lui Marco per farci capire quanto grande fosse questa folla che si attorniava attorno a lui ci dice da quante regioni venissero e non erano soltanto la Giudea e la Galilea ma anche quelle nel nord e nei dintorni un'immensa folla si accalcava attorno a Gesù perché è scritto Marco ci dice poiché ne guariva molti tutti cercavano di toccarlo quindi non era solo una folla numerosa ma era una folla che lo accerchiava che si stringeva contro di lui a tal punto che lui è costretto a dire ai suoi discepoli di riservargli una barchetta su cui poter salire probabilmente ogni tanto soltanto per poter avere un pochino di riposo che contrasto per noi lettori usciamo dal silenzio di quella sinagoga piena di incredulità per essere catapultati in questo spazio pieno di gente dove Gesù è accerchiato da persone che probabilmente gli gridavano Gesù guariscimi Gesù toccami Gesù sono malato immaginiamo anche il rumore di quella folla Marco ci dice anche che i demoni che lo riconoscevano si prostravano davanti a lui e quasi con indignazione gli dicevano tu sei il figlio di Dio come per dire io so chi tu sei ma Gesù li sgridava severamente perché non voleva che dicessero chi fosse come abbiamo visto domenica scorsa Gesù non voleva essere conosciuto come un guaritore e ne voleva che la sua fama diventasse un intralcio un impedimento per il suo ministero era venuto per annunciare la buona notizia era venuto per annunciarsi era la buona notizia i vostri peccati sono perdonati e perché questa notizia sia vera e sia veramente buona io non ho un trono che mi aspetta ma una croce e questa verità che è il cuore del suo ministero è quella che Gesù vuole iniziare da questo momento a plasmare a modellare nei cuori dei suoi discepoli in un momento in cui i capi religiosi del tempo si opponevano a lui e le folle lo seguivano solo per essere guarite Marco ci dice che Gesù spende una notte su un monte in comunione con il Padre e l'indomani mattina chiama a sé tra le persone che lo seguivano i dodici perché da quel momento in poi stessero sempre con lui per poi mandarli a predicare a guarire e a scacciare i demoni dovevano essere dovevano essere vite trasformate dall'intimità dalla vicinanza con Cristo a parlare di Dio a parlare di Lui ad altre vite Gesù voleva che i suoi discepoli capissero che non stavano aderendo ad un altro gruppo religioso né a un altro leader carismatico ma che la loro chiamata era quella di essere parte attiva del regno di Dio insieme a Lui il loro compito era tanto quello di stare con Gesù quanto quello di essere mandati un commentario che leggevo questa settimana dice due cose a questo riguardo la prima è questa la vita di un credente porterà tanto frutto quanto il tempo che spenderà con il suo maestro la vita del credente porterà tanto frutto quanto il tempo che spenderà con il suo maestro e l'altra cosa che dice è questa il compito di un credente è predicare il Vangelo essere il medico delle anime e avanzare contro il regno del nemico la vita del credente si divide in queste due grandi chiamate vieni e vai venite e andate dobbiamo venire andare da Cristo spendere il tempo con Lui essere trasformati dalla Sua parola dal Suo Spirito Santo quando passiamo dei momenti in preghiera stare con Lui godere di un tempo indisturbato durante il giorno che possa essere la mattina nel pranzo o la sera ma un tempo in cui siamo solo con Lui godere di un tempo comunitario in cui lo conosciamo ma poi la nostra chiamata è anche quella di andare cioè di vivere le nostre vite quotidiane di vivere il nostro luogo di lavoro le nostre famiglie le nostre amicizie i nostri hobby come un messaggio di speranza sapendo che possiamo essere il messaggio per le loro vite come stiamo vivendo la nostra vita da discepoli del Maestro e da qui la scena Marco la risposta nuovamente in un altro grande scontro che Gesù ebbe con le autorità del tempo da cui nasce poi il secondo avvertimento che Gesù dà ai nostri cuori stavolta però si tratta degli iscrivi un altro gruppo religioso del tempo più o meno simile per molti aspetti a quello dei farisei probabilmente a seguito di un'altra liberazione che Gesù aveva fatto di un indemoniato gli iscrivi si riuniscono a Gerusalemme esaminano il caso arrivano ad una conclusione mettono una sentenza e con quella accusa partono da Gerusalemme arrivano in Galilea dove Gesù è per poterlo prendere probabilmente imprigionare se l'avessero colto in trappola con questa accusa a tal punto che Marco ci fa intuire che i suoi amici gli amici di Gesù e la sua famiglia cerca di andare a cercarlo perché da un lato non si rendevano conto di quello che Gesù stava facendo non era così chiaro per loro dall'altro sanno probabilmente che gli iscrivi vogliono portarlo via o tenteranno di farlo quindi tentano di sottrarlo ma gli iscrivi arrivano da Gesù nella casa dove si trovava e dicono questo gli iscrivi che erano scesi da Gerusalemme dicevano egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni l'accusa che avevano formulata era chiara e fortissima come nel caso dei farisei c'era un presupposto dietro quella conclusione a cui erano giunti e il presupposto era questo Gesù questo potere non può essere da Dio quindi lui deve essere un indemoniato così gli dicono sostanzialmente non solo hai un demone ma il principe dei demoni attraverso cui voglio impressionare le persone con il tuo potere spirituale ma Gesù anziché rispondere aspramente a questa assurda accusa risponde loro in parabole per dare anche loro come era stato per i farisei un'occasione per ripensare alle conclusioni a cui erano giunte egli dice questo come può Satana scacciare Satana se un regno è diviso in parti contrarie quel regno non può durare se una casa è divisa in parti contrarie quella casa non potrà reggere se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso non può reggere ma deve finire d'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie se prima non avrà legato l'uomo forte soltanto allora gli saccheggerà la casa in altre parole Gesù stava dicendo può un regno fare guerra a se stesso se lo fa non si autodistruggerà se Satana combatte contro Satana non sta disperdendo il suo regno anziché allargarlo ma io vi dico non solo non sono quello che voi pensate ma vi dirò di più se sono stato in grado di rubare il bottino all'uomo forte riferendosi a quella vita strappata di quell'uomo o di quella donna dai lacci dei demoni se sono stato in grado di rubare quella vita di strapparla dalle sue mani non significa forse che prima sono stato in grado di legarlo e che quindi sono più forte di lui perciò non solo non sono il principe dei demoni ma sono qualcuno ben più grande e potente di lui in altre parole ciò che non aveva detto ma che stava dicendo io sono Dio e davanti a un'accusa così feroce Gesù dà questo importante avvertimento in verità in verità vi dico ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno ma è reo di un peccato eterno ascoltatemi bene stava dicendo Gesù ascoltate ciò che sto per dirvi tutto può e tutto potrà essere perdonato non esiste peccato che possa venirvi in mente che possiate aver compiuto che non sia perdonato ma non un'insistenza nel rigettare forse schernire e rifiutare l'unico che può perdonare e questo ci porta al nostro secondo punto di oggi che un po' racchiude anche l'avvertimento che Gesù fa ai nostri cuori ed è questo errati i presupposti portano a fatali conclusioni errati i presupposti portano a fatali conclusioni gli scribi avevano già determinato nel loro cuore chi Gesù non poteva essere e perciò attraverso questa stessa missione loro si pongono lontano dove non potevano perché non volevano essere raggiunti dalla grazia di Dio non c'è luogo non esiste luogo non c'è peccato non c'è alcun peccato in cui possiamo cadere dove la grazia di Dio non sia in grado di raggiungerci di perdonarci e di ristorarci ma c'è un luogo in cui possiamo rimanere insistentemente magari dicendo che Dio non esiste o che non abbiamo bisogno di essere raggiunti dal suo perdono e i confini di quel luogo sono determinati dalla nostra volontà rifiutare Cristo ha conseguenze eterne pensiamoci altrimenti fermiamoci un attimo che senso avrebbe avuto altrimenti che Cristo dovesse morire per i nostri peccati ma questo avvertimento è anche pieno denso di una grandissima gioia per tutti noi che lo ascoltiamo perché ci ricorda che in Cristo non esiste niente che non possa essere perdonato perciò se il presupposto con cui sei entrato qui questa mattina è che forse ti è una favola o che Gesù è uno dei tanti allora io ti dico guarda alle evidenze non solo dei Vangeli ma anche degli storici guariva i malati resuscitava i morti aveva un potere che nessun'altra realtà spirituale aveva visse per morire resuscitò il terzo giorno il suo sepolcro rimase vuoto la sua vita fu una vita piena di compassione di misericordia e di amore perciò l'invito è lo stesso per te oggi alzati alzati qui in mezzo e stendi la tua mano per afferrare la sua alzati se il presupposto con cui sei entrato qui invece questa mattina è io sono un discepolo di Cristo ma la mia vita è andata a rotoli sono andato troppo lontano le sue parole per te oggi sono queste figlio mio figlia mia ogni peccato è perdonato ogni peccato è perdonato e io ti dico non solo io posso perdonare i tuoi peccati io voglio perdonarti perciò ritorna da me e questo capitolo si chiude con una bellissima storia finale mentre un'altra folla sedeva intorno a Gesù arrivano sua madre i suoi fratelli che lo mandano a chiamare e quando alcuni vanno a chiamarlo allora Gesù risponde questo loro e dice chi è mia madre e chi sono i miei fratelli e girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno disse ecco mia madre ecco i miei fratelli chiunque avrà fatto la volontà di Dio mio fratello sorella e madre questo capitolo si apre con uno sguardo e si chiude con uno sguardo si apre con lo sguardo di Gesù che si posa sui farisei all'interno della sinagoga ma che rimangono in silenzio e rattrista il cuore di Gesù ma si chiude con uno sguardo di Gesù che posa i suoi occhi sulle persone che erano intorno a lui e che avevano deciso di seguirlo e che incrociando quegli sguardi si riempie di gioia perché in quegli uomini in quelle donne vedeva e riconosceva la sua famiglia questo ci porta al nostro ultimo punto che è questo che siamo diventati parte della famiglia di Dio siamo diventati parte della famiglia di Dio la nostra scelta di seguire Cristo a meravigliose conseguenze eterne abbiamo il privilegio di poter chiamare Dio padre e il privilegio di poter essere chiamati figli di Dio non tanto come per esempio possiamo immaginare un re che dà un privilegio ai suoi sudditi o un datore di lavoro che dà una promozione al dipendente piuttosto come un padre e una madre alcolgono il proprio figlio ecco come Gesù ci guarda con questa gioia e il legame che Gesù ha con noi questo sta tentando di dirci è molto più forte è forte quanto quel legame che noi possiamo immaginare il legame più forte che possiamo immaginare su questa terra cioè quello con la nostra famiglia con i nostri genitori e con i nostri fratelli Gesù non ci vede solo come qualcuno che lo segue che lo deve seguire qualcuno che deve imparare qualcosa da lui o deve sistemare parte della sua vita Gesù ci vede come qualcuno tanto vicino quanto una madre può essere con il suo figlio questo è il meraviglioso Gesù che stiamo scoprendo nelle pagine di questo Vangelo di Marco gli occhi di Gesù oggi si posano su di noi il suo sguardo è su di noi su quelle domande con cui siamo entrati su quei presupposti con cui siamo entrati forse quelle domande che pensiamo di fare da soli a noi stessi ma che Gesù conosce quale sarà la tua risposta prendiamoci qualche secondo per pensare a quale sarà la nostra risposta possiamo scegliere se alzarci e stendere la nostra mano oppure rimanere in silenzio e a